Good morning a tutti voi e buona festa dell'Assunta. Siamo al Vangelo di Luca al capitolo 1 versetto 39 56. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Mi fermo già su questo versetto perché Maria, oggi abbiamo ancora un'occasione per guardare alla grandezza e all'umanità di Maria che ha una grande notizia e ha la fretta di dirla questa notizia, ha la fretta di correre verso la cugina e di dire quello che Dio ha compiuto in lei. Ecco, questa fretta prenda anche noi, prenda anche noi che spesso siamo testimoni magari un po' tiepidi, un po' pigri e allora mettiamoci in movimento. Se veramente stiamo seguendo il Signore, mettiamoci in movimento e in fretta per raccontare quelle che sono le meraviglie di Dio. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E' beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». La storia di Gesù, la storia del Salvatore, la storia di colui che noi crediamo essere figlio di Dio, essere immagine trasparente di Dio Padre, nasce dalla storia di due donne, di Maria ed Elisabetta e di questa Maria ragazzina che va dalla cugina anziana e insieme, mi piace pensare a questo incontro tra due generazioni diverse, due generazioni diverse che però raccontano le meraviglie di Dio, raccontano le meraviglie di Dio da una parte in una ragazzina quattordicenne che ha avuto il coraggio, che ha osato di dire sì a Dio tenendoli in potesta perché poi Maria fa delle domande all'Arcangelo Gabriele e dall'altra parte questa donna anziana che scopre che anche alla sua età Dio continua a compiere meraviglie. Dio continua a compiere meraviglie nella nostra vita, qualsiasi età abbiamo e qualsiasi età abbiamo noi siamo chiamati a raccontare le meraviglie di Dio. Maria lo farà in un modo magnifico, tant'è che oggi leggiamo anche le parole che dicono l'anima mia magnifica è il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Ecco, di che cosa noi potremmo dire l'anima mia magnifica è il Signore? Qual è la grande meraviglia che in questi giorni, in questi tempi, in questi mesi, magari Dio ha compiuto dentro di noi? Che cosa potremmo cantare noi delle meraviglie di Dio? Ecco, oggi vi invito a pensare a questo. C'è un aspetto, una situazione, una circostanza per cui io possa dire Dio sta compiendo meraviglie. Se non lo troviamo, dobbiamo cercare meglio perché Dio continua a compiere cose meravigliose. Spesso noi non abbiamo gli occhi per vederle, il cuore per riconoscerle. Evviva Maria! Io sono in una parrocchia dedicata al cuore immacolato di Maria e quindi in questa giornata vorrei affidare a Maria tutte le persone che hanno particolarmente bisogno di preghiera, tutti gli ammalati, tutti gli anziani, tutte le persone che oggi non potranno magari godersi una gita fuori porta, che staranno nelle proprie case, ma anche lì Dio compie meraviglie. Ale, buona giornata a tutti voi!